La trama di Robin Mussolini è abbastanza semplice. Diciamo che la storia di questa banda capitanata da Isola che insieme decidono di fare un colpo, ovvero quello di rapinare il Duce. Rapina al tesoro di Mussolini. La rapina del secolo, diciamo. Ok, complicato. Le scene più faticose del film per me sono state tutte. Rispecchia molto l'immaginario dei film con cui poi uno è cresciuto. Raramente come in questo caso mi sono sentito così dentro un film. La mia idea è stata andiamo a cercarci delle location reali e poi facciamo una ricostruzione, diciamo così, sul campo lungo, cioè sulla profondità di campo. Insomma c'è tanto lavoro da fare a livello di VFX su questo film. Un film che ha tanta azione. Mi sono detta che era una bella sfida, che era una cosa divertente da fare. Un film un po' rock. E questo è molto interessante. La sfida era farlo bene. Abbiamo allenato tutti gli attori a sparare, perché sennò avrebbero avuto, diciamo, delle mancanze di concentrazione, pure avrebbero chiuso gli occhi. È stata una preparazione molto meticolosa. Ho iniziato a urlare mentre sparavo con questa mitragliatrice. Ho rischiato di svenire. La mitragliatrice pesava tantissimo. Urlavo. L'obiettivo era quello di arrivare in confidenza anche con gli strumenti che utilizzavamo e la situazione in cui appunto eravamo calati. Oggi verrò appesa là sopra come un salame. Stanno cercando di capire dove agganciarmi. C'è perché c'è da bucare la camicia, il cappotto e sotto l'imbragatura. Devo dire che nel momento in cui si cominciava a girare c'era sempre un po' di tachicardia. Tante armi sparanti e in più, nonostante tutta la sparatoria, colpi al solito in giro, eccetera, c'era anche l'esplosione di un camion. Diversi, diversi anni che non facevo un film così. Fabio e Pasquale hanno costruito un impianto incredibile dove siamo riusciti a fare quasi 20 esplosioni in contemporanea. È stato uno spettacolo, lì ha lavorato per ore e ore e quella lì era una scena unica, o viene o non viene. Pronti via, ovviamente erano esplosioni che dovevano avvenire a cadenza come a simulare il passaggio dell'aereo e quindi è stato emozionante, veramente bello. 3, 2, 1, attimo! Wow, ma chi riesce a fare questo film in Italia? Spettacolare, proprio spettacolare! Spettacolare, proprio spettacolare! Spettacolare, proprio spettacolare! Spettacolare, proprio spettacolare! Spettacolare, proprio spettacolare!